Controllo, spionaggio e contrabbando, capi di stato e posti di comando, denuncio il reato federale, seguo le piste d'ogni criminale, addestramento, addestramento, 6.000 agenti, 50 stati, 50 stati investigati, 13.000 armadi pieni di nostri dossier, una città d'archivi, strati d'impronte cliché, informatori, confidenziali, concredenziali, molto distinti e tutti in borghese, bando alle fede. Intercettate, telefonate, pronto chi siete? Siete sedato, non dubitate, tutte le schede sono numerate. 500.203 è un criminale o un generale, è un delinquente o il presidente. E' solamente un numero per me, quando sono distratto confondo i tre. che importa poi, quanto siamo schedati pure noi, vuole anche lui, il bene dell'America, timo poi. FBI, FBI, sono un agente dell'FBI, FBI, 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 sono un agente dell'FBI. KI, FBI, IA, SI, 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 SI! Ghiè? E ora lì? Priesta capo, ma è giusto che questa carta non è giusta. Eppure me l'ha data il comando. Ma questa non è l'uscita di gente. Che cos'è? Qui ci troviamo in mezzo alla gallina. Galline? Chi è? Potrebbero essere delle spie travestite. Mamma mia. Non diamo sospetti. Cerca di indagare che io ti copro le spalle con la pistola. Mi assegura io. Sono gallina, capo. Un uovo. Sei sicuro che è uovo? Freschezza. Allora, prima della conclusione eccitante, un tranquillante. Grazie, grazie. A Vicky. A Vicky, a Vicky. Capo, la casa è circondata. Bene, Frank. Pronti? Prontissimo. Avanti il primo. Ho detto avanti il primo. Il primo siete voi. Ma avanti il secondo. Il secondo siete sempre voi. Ma avanti tu. No. Aprite la porta. Volete che la apriamo noi? Frank, spara un colpo in aria. Fai, ti ho detto in aria. Sono mancini. Spara per terra. Ma che siete matti a sparare dei colpi, ragazzi? E poi questo non è il momento di comprare né pistole né coperturi. Ma che scherziamo? Ma che siete impazziti? Io c'ho da fare. Ragazzi noi, vieni qua. Sargento Smith, dalla FBI. Dalla FBI? Agente Frank, dalla radio e TV. Frank, avanti il secondo. Un momento, scusate. Il terzo mi segue. Come on. Come incidente. Come on. Come on. Morta. È morta. Tu a me non dire a questo. Chi è stato? Perché? Perché questa morta? Leva questo. Parmi tutti. Bella truffa. Ma che cercate? Che volete da me? Io sono una persona onesta. Cosa cercare? Sargento Smith, dalla FBI. Durante visita al nostro comando FBI. Rubata pistola al nostro collega della FBI. Noi sapere che pistola essere qui. Dov'è pistola? E che ne so io. Dove avere nascosto pistola FBI. Non sapere? Non sapere. Borgimi Tortmissica. All right. Io restare lì a letto mia a disposizione. E io restare lì a mia disposizione. Tutti fuori. Come on. Let's go. Let's go. Come on. Ma non. Let's... Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Via. Come on. Come on. Io vorrei dire una parola. Tutti bravi. Come on. Come on. Come on. Via. Come on. Pensa pure una idea tua. Ma non so. Non è un giusto. Vai. Noi. Vai. Shut up. Capo, io qui non ci capisco niente A me sembra manicomio Volere vedere cartine per assicurarmi se punto è sato Io quello piccolo ho visto in Cleopatra Quello c'è pure ventilatore L'altro c'è pure candele Come, come Ma che farlo? Requisito Qua, signore Whiskey English, requisito Agent Frank Perquisizione Stavamo Dire 33 Questo mi sembra imbarsamato Sta molto male, sta morendo Che ne facciamo? Hospital Hospital? Get out of here Let's go Perquisizione Come on Tomorrow I'm going to the consulate This is an absolute disgrace, do you understand? Ma questo non lo capisco Ma che lingua parla? Madre linguine lady Ah, questo cerca una madre inglese Non è senza madre È senza madre No Senza madre Senza padre Orfanotrofia Orfanotrofia Gerard Avanti un'altra Come on A me? You zebra Cosa essere questo? È un orologio Non bomba travestita? No, che bomba travestita? Un orologio Requisire Che essere tu? Parlare, parlare Speak, speak Io Silenzio Perché io non rispondi Io? Silenzio Rispondi Devo rispondi? Shut up You parli troppo Ah, bu Arrivederci Goodbye Arrivederci Dove andare Sargente Smith Che febbiai Capito? Per quesissi Agente Frank Dell'MG Pappa 2 Compli Non lo metto in dubbio Shut up No, non ho niente Ecco Io sono venuto a Roma Per cercare Dei numeri di spogliarello Dato che il Il dottor Pagiolini A me non interessare Togli il pigiama Non ho la giacca Non la levo Togli il pigiama Ma che pigiama? Questa è una giacca Che costamente me la pire Perdere calma Togli il pigiama No, no, no Mi dispiace Non levo la giacca Senti, giovanotto Tu di dove sei? Io, calabrese Capo, queste calabrese Non c'è niente da fare Molto duro Cosa ne facciamo? Dove lo mandiamo? Ponte Citorio Ok Ponte Citorio Arrivederci Arrivederci Per quesissi Aspetta Per quesissi Aspetta, quesissi Oddio Oddio Mio adorabile Io adoro molto La polizia americana Mi piace Quella della FBI Mi piace Sei bello Capo, mi fa il conto bello Caro Sono il Marlon Brando Siamo due fedeli di latte Siamo nati in due città diverse Sei adorabile Perquisizione Capo Smith Perquisizione Che succede Smith Come a, come a Perquisizione Ma, ma Perquisizione Capo di questa deficiente Cosa ne facciamo? Cosa? Gabinetto Ok Gerard Di questa ragazza Cosa ne facciamo? Cosa succede Smith? Questa nasconde molte cose Dove la mandiamo? A casa mia Vai baby Vai Vai baby Bella Io metto il cedolo nelle vene Il fuoco Mi sento elettrico Elettrico? Permette? A questo dove la mandiamo? In Svezia Premio Nobel per ventilazione Stop Requisizione Gerard Uffa Avanti un altro Requisizione E voilà E allora Se mi devo spogliare Mi spoglio Se non mi devo spogliare Non mi spoglio Però ricordatevi Che io con voi due Non comunico E non mi fate lavorare Sapete? Perché altrimenti Divento una tigre E posso anche picchiarvi Magari con un fiore To 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 Mi ha fatto male Capo A questo dove lo mandiamo? A casa tua Non ho fatto niente Non ho fatto niente Non so niente Niente Tu Cleopatro Vieni Io Io non ho fatto niente Io non ho fatto niente Ma dov'è i fagiolini? Dov'è i fagiolini? Fagiolino Che fagiolino? Io sono rimasto solo con Melanzana Melanzana Tieni qui Ma che melanzana e fagiolini? Fuori la carota E la pistola Pistola? Ma io Dove è la pistola? Ma quella pistola? Piano Come fate il solletico? Mi piacere Ma che fate? Manicomio Vieni Vieni Dove finite quelle due persone? Noi entrate d'uscita d'emergenza Loro fuggite d'ingresso principale Cosa raccontare adesso? Io comando Barzalletto C'è nessuno? Non c'è Qui so l'indumento ragazzino Sfogliarello truffardino Requisito, requisito Ragazze con pistola Ragazze con pistola Io non ho fatto niente Ecco pistola rubata Agente FBA E seguito presidente Tu ladra No, no Io non so niente Non so niente Cosa facciamo di questa femmina? Niente Agente Frank Nostra missione Solo recupero pistola E tu piccola bambola Ricordati che noi dell'FBA Nessuno ci frega Bravo Agente Frank Voi? Missione compiuta Promozione sicura Ok Agente Frank Dopo queste vicende Non sta male Illumini Interpreta a suo modo Paganini Paganini Non so ne Grazie a tutti.